Grazie a tutti i miei figli di Pininfarino. Siamo molto orgogliosi di ricevere questo ragazzo che dimostra che siamo un benchmark in l'automotivale. Questo mondo prove il nostro lavoro, il nostro compromesso, la nostra passione, la nostra resilienza durante i tempi difficolti e il fatto che abbiamo sempre potuto trasformare i tempi difficolti in opportunità. Abbiamo sempre evoluito la nostra attività di design, diversificando anche da l'automotivale a tutti gli altri settori dell'industria. Grazie a tutti i miei figli di Pininfarino. Finalmente, grazie a tutti i miei figli di Pininfarino. Grazie a tutti i miei figli. Grazie a tutti i miei figli. Grazie a tutti i miei figli. Grazie a tutti i miei figli.